no, diciamo che lo prendi su, ma adesso non... porto lo taglio qui fa forza e dai! è buona? si, ma che è una roba che... è la fonda che la mamma non è a fare di solito ma prepara cioè? ma sei tu capocordata oggi cosa vuol dire? quindi devi preparare tutto, curarti del tuo allievo guardare che abbia tutto portare le corde, portare la nuova pesante aiutare dove ha bisogno devi preparare con le ghiere è tutto allora, su, le cose lì non senti niente guarda cosa c'è dentro? che? eh Peppe? ecco perchè fai il gaggio ecco perchè fai il settimo ecco perchè fai il settimo si droga, hai capito? ma non ci sono problemi oggi non ci sono problemi non ci sono problemi non ci sono problemi comunque non ci sono per te ma è per me ma lascia perdere ho capito? ho trovato io qualcosa di duro qua dentro cosa c'è quando c'è ma che cosa c'è? ma io prendo sempre il suo e dopo dopo la dopera è mia la porta in giro capito? dopo dopo la dopera è mia eh? ogni tanto lo uso la settimana scorsa se il dopera era mio male certo voglio vederti ma quando sono uscito la... farò vedete il mio vidro non è... ma la foto Sì, sì, sì. Vole in passato. 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 Vole in passato.